musica 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 ben tornate a metterlo sotto nel video su Dragon Age stavo dicendo Shadow Warrior stiamo andando a prendere il secondo pezzo della spada che c'è la maestro la il vecchio l'ex capo di Wang Zilla e questa probabilmente sopra questa nave anche se non ho ben capito come arrivarci che cazzo è oddio no 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 se no se no mi si come ammazzo devo sparare qua alla schiena musica 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 ma non rifaccio niente forse vabbè a parte carica si è decisamente la schiena non 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 Caricare Stato in aria Ah Ma lo sto usando per distruggere con gli affari O cosa? Ma il bastardo Sei piegato nel momento stesso in cui Ma è un boss Che cazzo è? Ole A cattoro Bene Sì Pure il negromante Sporco bastardo È imprecisissimo Mi spiego la La... come si dice? La guida laser del potenziamento Me la spiego proprio Al diavolo Perda Mamma mia Quanto mille Wow Bel colpo Aspetta posso fare No No Qua la questione sui Che cazzeri Potresti chiesti mi fai Ok Fuori c'è Fuori c'è Fuori c'è Fuori c'è la barriera Guarda Non sapevo No Finalmente No Po Ho Non sapevo Sporco Buuri Oh No No Il 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 Wow Quella era intensa Ho usato solo armi da fuoco Ma è che potevo anche Utilizzare un filino Di Potevo usare un filino Ho usato un filino di potere E che suggerisce Che ci sarà un'altra boss fight Cazzo è veramente qui Ha dato il manico l'ultima volta Che ci darà stavolta Credo ci abbia dato L'Elsa Vediamola Credo l'Elsa Perché l'ultima volta ci abbia dato l'azzuca di cuoio Katana Tsuba antica Ah c'era la capacità di generativa L'ho spiegato Come un gengetto Come un gengetto Come un gengetto Come un gengetto Sì è la È l'Elsa Come noi La chiameremmo Elsa Un po' a me dispiace Però Anche perché sono state create Solo per morire Coracci Questa è la grazia che ho ricevuto Dopo di perdere in raged colmo wearing the face a in printed without you the world began still i wore the armor made by my banished brother and waited Enra says one of us must be destroyed that you may and the darkest of rituals requires the ultimate weapon who would carry the knowledge soul of kages into this world shadow beings are scorched by it by hoji's blasphemy a being without soul it seems your little conjurer found his purpose after all and the price I must pay Quindi praticamente oggi ha creato le sussurratrici E cosa vuole la spada per salvare sua sorella? La sua amata, la sorella, non lo so, immagino sì Quello che non capisco Allora dice che alla fin fine stanno usando le sussurratrici per riprendere la spada Perché gli esseri delle ombre non possono toccarla E io ho visto la figura di un uomo Pegaso Che immagino sia la sua armatura Bene dai perché l'ultima volta era un cazzo di toro Stavolta è un Pegaso quindi cioè dai Così dai, così dai proprio Aspetta, vuol dire che devo affrontarlo? Capitolo 11 Provo come farebbe un verbo Strisciare Che por la divinità Non è stato un buon momento per farlo Perché hai creato queste cose di rispare? È un'ottima cosa che ho spavato La memoria di quello che ho fatto È iniziata nel rispare che ho fatto È davvero abbastanza È davvero abbastanza Certo, un genio E noi tutti facciamo errori, ok? Ho scopato i miei ricordi Tu lavorai per un sociopattico megalomaniacico Che vendi la rosa humana A la rivera E possiamo chiamarlo? Certo, un genio Ho bisogno di andare a Zilla E non credo che posso farlo senza te Ma provi nulla E io farò qualcosa E io farò 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 Sconfiggi mezzo Sconfiggi mezzo Sconfiggi mezzo